Ciao e benvenuti in Lab. Oggi ti parlo di 10 accorgimenti che utilizzo per semplificarmi il lavoro durante i miei progetti. Alcuni li ho imparati a scuola di fare legnameria, altri invece durante il percorso che sto facendo per imparare a lavorare il legno. Sei pronto? Vamonos! Qualche anno fa ho intrapreso il percorso per apprendere le tecniche per lavorare il legno e ho imparato a mie spese alcuni problemi che si possono verificare. Ad esempio quando si crea una battuta sulla testa di un pezzo fresando attraverso vena, cioè perpendicolarmente alla direzione delle venature, è molto probabile che in uscita alla fresata si crei un'evidente scheggiatura. Per fortuna però questo problema si può evitare facilmente affiancando al pezzo di lavorazione un cosiddetto martire dello stesso spessore in modo da poter proseguire la fresata di 1-2 cm e quindi ottenere un taglio privo di scheggiatura. Infatti il martire assorbirà la fresa in uscita evitando questo inconveniente. Quando taglio pannelli o assi di una certa dimensione con la sega circolare utilizzo un piccolo trucco per evitare che il peso della parte non supportata da cavalletti o da un piano di lavoro faccia cedere lungo la linea di taglio prima di averlo completato con un conseguente strappo della fibra nella parte finale. Semplicemente mi procuro un listello lungo e non troppo spesso che a metà del taglio inserisco al di sotto della parte già tagliata e che mi aiuterà a sostenere il pezzo fino alla fine del taglio. Quando realizzo uno scasso con una fresatrice verticale ad esempio per inserire una cerniera o altro tipo di ferramenta utilizzo un piccolo accorgimento per impostare la profondità di fresata in maniera rapida e precisa. La prima cosa da fare è trovare il punto zero mandando la fresa in battuta sul piano di lavoro dopodiché si può bloccare l'elettro utensile in posizione. A questo punto prendo ciò che voglio inserire nello scasso nel mio caso si tratta di una placchetta metallica che inserirò agli angoli di una cornice per rafforzare le giunzioni e lo appoggio sul gradino più basso della torretta dopodiché mando in battuta l'asta di regolazione sulla placchetta stessa. Arrivato in battuta blocco l'asta di regolazione stringendo la monopolina. Con questo piccolo accorgimento sono ora sicuro che mandando in battuta l'asta di regolazione sul gradino più basso della torretta la fresa fuoriuscirà esattamente dello spessore della placchetta. Questo è un metodo empirico che ci permette di evitare misurazioni che tra l'altro possono a volte introdurre un grado seppur minimo di errore. Ovviamente è un accorgimento che si può utilizzare non solo per realizzare piccoli scassi ma anche fresate più profonde a patto di avere a portata di mano qualcosa di cui si conosca esattamente lo spessore e che tale spessore sia pari alla profondità che vogliamo ottenere. Ad esempio possiamo utilizzare un scarto di multistrato o come più spesso faccio io delle punte per legno economiche sempre a portata di mano e soprattutto calibrate in modo preciso. Se vuoi sapere più nel dettaglio come impostare in maniera canonica la profondità di fresata ho realizzato un video specifico di 3mdf che puoi trovare qua tra le schede. Quando si portano a misura i pezzi che comporranno un progetto può succedere a volte di tagliarli con una lunghezza leggermente maggiore rispetto al voluto. In questi casi sfrutto la conformazione della lama per rimediare l'imprecisione. In particolare gioco sul fatto che il corpo della lama ha uno spessore inferiore di qualche decimo di millimetro rispetto al dente. Quindi mandando in battuta il pezzo da ridurre sul corpo della lama asporterò questa minima differenza riuscendo il più delle volte a risolvere il problema. A volte può essere necessario ripetere quest'operazione più volte per avvicinarsi a piccoli passi alla misura esatta. Io utilizzo questa tecnica alla troncatrice perché mi è più comodo ma si può fare lo stesso con un banco sega aiutandosi con un goniometro o con una slitta per i tagliatroncare autocostruita. Tempo fa ho acquistato dei ricambi di carta vetrata per la levigatrice a nastro e ovviamente ho sbagliato in misura. Ho cercato di trovare una parte positiva in questo errore e volgerlo a mio vantaggio. Ho pensato quindi di tagliare a misura un pezzo di multistrato da inserire all'interno del nastro in modo che la carta vetrata rimanga in tensione e la potrò quindi utilizzare per levigare a mano. Devo dire che da quel giorno lo utilizzo molto spesso perché è davvero comodo, mi dà un'ottima impugnatura e mi permette cambiando il nastro di scegliere agilmente la grana. Inoltre lateralmente nella parte centrale ho creato un asola in cui posso inserire un morsetto per bloccarlo a banco da lavoro e levigare piccole parti. Quando si realizza un tavolino, una sedia oppure una panca è buona norma rinforzare gli angoli interni con dei cantonalini ovvero dei triangoli rettangoli in legno tipo questo. La loro funzione è quella di garantire che la struttura rimanga a squadro nel tempo. Generalmente quello che faccio è mettere un po' di colla sui lati corti e tenerli in posizione con un paio di punti di sparachiodi. Per strutture che iniziano ad avere una certa dimensione come ad esempio questa panca è meglio fissare i cantonalini oltre che con un paio di punti di sparachiodi anche con un morsetto durante tutto il tempo necessario alla colla per far presa. Il problema è che non possiamo utilizzare il morsetto in questo modo perché non otterremmo un buon serraggio e quasi sicuramente andremo a rovinare lo spigolo. In questa situazione ci viene in aiuto un blocchetto come questo che ha un alloggio adatto ad ospitare l'angolo della struttura che ci permette di avere una superficie parallela al cantonalino e utilizzare quindi al meglio il morsetto. Io per ricavarmi quattro blocchetti di questo tipo ho utilizzato il goniometro alla bancosega inclinato a 45 gradi e con un paio di tagli ho realizzato l'alloggio. Ovviamente l'utilizzo di questi blocchetti non è limitato al fissaggio dei cantonalini ma ci viene in aiuto ogni volta che dobbiamo avere una superficie a 45 gradi con la giunzione che abbiamo realizzato per fissarla con dei morsetti. A volte ho bisogno di incollare due pezzi tra loro ma non voglio attendere che la colla vinilica faccia presa in modo da poter passare subito alla lavorazione successiva. Oppure il tipo di giunzione non permette facilmente l'utilizzo dei morsetti perché ad esempio non è a 90 gradi. In tutti questi casi su una delle due parti da unire do dei punti di colla caldo intervallati da dei tratteggi di colla vinilica. La colla caldo mi garantirà una presa immediata e che le due parti rimangano accostate per tutto il tempo necessario alla colla vinilica per far presa. Successivamente potrò anche aggiungere delle viti per dar maggior solidità all'aggiunzione. A volte capita di dover dividere una tavola in x parti uguali e la misura iniziale del pezzo ci mette di fronte ad un calcolo difficilmente risolvibilamente a meno che non sia dei draghi della matematica. In questi casi utilizzo un piccolo trucco che mi permette di semplificare molto il calcolo rendendolo praticamente scontato. Nello specifico si tratta di posizionare il metro in diagonale fino a raggiungere una misura che sia multiplo del numero di parti in cui vogliamo dividere il pezzo. Ad esempio questa tavola misura 18,5 centimetri diviso 3 potrei provarci ma insomma fa 6, qualcosa. Se io invece posiziono il metro in diagonale e raggiungo i 21 centimetri so che dovrò fare un segno ogni 7 centimetri quindi 7,14. A questo punto mi basterà prolungare le linee per aver diviso la tavola esattamente in 3 parti. Se invece volessi dividerla in 4 parti mi basterà raggiungere un multiplo di 4 ad esempio 24 e a questo punto so che ogni 6 centimetri devo fare un segno. 6, 12, 18. Allo stesso modo prolungando lungo questi segni che ho fatto dividerò la tavola esattamente in 4 parti e così via. Questo accorgimento l'ho visto utilizzare per la prima volta direttamente a scuola di falegnameria dal mio maestro. Ricordo che in maniera molto rapida e precisa tracciò a mano libera una linea perfettamente dritta. Osservando meglio capì come aveva fatto. Si tratta di appoggiare i polpastrelli del dito medio o indice o di entrambe le dita a un lato di un pezzo di lavorazione che utilizzeremo come guida. A questo punto si irrigidisce la mano e tenendo le dita in pressione sul lato del pezzo si scorre avanti e indietro tracciando la linea. Ovviamente affinché il metodo abbia successo il lato del pezzo deve essere perfettamente dritto. Praticamente come quando si utilizza una squadra combinata tipo questa però in questo caso basta avere una matita. Il limite di questo metodo è che non possiamo tracciare delle linee troppo distanti dal lato che utilizziamo come guida perché più ci allontaniamo e più si fa fatica a tenere rigida la mano. In questi casi si può applicare lo stesso principio utilizzando però in aggiunta un flessometro oppure un metro da falegname. È un metodo chiaramente sbrigativo e la cui precisione dipende dal grado di rigidità della mano che come ogni cosa migliora con l'allenamento e l'esperienza. È quindi un accorgimento secondo me da utilizzare quando non si ha a disposizione una squadra combinata. Ok ragazzi il video di oggi termina qui. Questi erano i miei 10 accorgimenti fammi sapere scrivendo qua sotto il numero corrispondente qual è quello che ti è piaciuto di più ma soprattutto scrivimi i tuoi trucchi quelli che usi in laboratorio in modo da creare un contenitore di informazioni utili a tutti anche da consultare in futuro quando serve. Ho voluto condividerli con tutti voi per creare una sorta di diario di bordo e tenere traccia del percorso che sto facendo per imparare a lavorare in legno. La strada è sicuramente ancora molto lunga però la passione e l'energia per affrontare questo percorso sicuramente non mi mancano. Spero che questo mio cammino ti appassioni e se hai dei suggerimenti da darmi sono ben accetti. puoi contattarmi tramite instagram facebook o per email trovi qua sotto i miei contatti in descrizione. Se il video ti è piaciuto dagli al me gusta e non dimenticarti di spuntare la campanella è una cosa che ti aiuta a non perderti i prossimi video. Se vuoi vedere altri 5 accorgimenti che utilizzo in laboratorio li trovi in questo video mentre qui puoi trovare la playlist di 3MDF. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. In seguito i sogni e hasta luego!